Ciao a tutti da Gabriele, bentornati sul mio canale di programmazione Aidenhain. Nel video precedente avevo mostrato come impostare la lingua sul controllo Aidenhain, sul simulatore, ma in realtà la stessa cosa vale anche sul controllo della macchina. Questa volta invece guarderei il come impostare una cinematica. Quindi ora la mia macchina è dotata di una cinematica molto semplice, da una macchina a tre assi, con gli assi X, Y, Z, ma sono in realtà presenti sul simulatore differenti cinematiche. Cosa diversa può essere sulla vostra macchina? Allora se la macchina è dotata di più cinematiche è perché permette di lavorare anche con configurazioni assi differenti, magari perché appunto si modifica la cinematica della macchina in funzione di cambi testa, per esempio. Però appunto andiamo su macchine un po' più complesse rispetto a quella che io adesso qui voglio simulare. Quindi appunto sul controllo sono presenti più cinematiche in cui l'operatore può passare da una all'altra in funzione del che configurazione macchina gli occorre. Nella maggior parte dei casi, per modo di dire, nella maggior parte dei casi la cinematica presente sul controllo è unica. Qui siccome parliamo di simulazione, sono presenti invece, è presente qualche simulazione in più per poter appunto, dopo che uno ha scaricato il simulatore, cercare di impostarsi il simulatore possibilmente uguale ad una configurazione che ha proprio della sua macchina in officina. Quindi vediamo come fare. Ora sono nel modo operativo manuale, ma la stessa cosa vorrebbe, potrei anche essere nell'editing. Io rimango nel manuale e bisogna premere il tasto MODE. Il tasto MODE che avevamo visto anche sicuramente nel video precedente in cui vi indicavo il codice da inserire per entrare nella parte di parametri macchina in cui modificare la lingua. Ora invece noi dobbiamo, semplicemente premuto il tasto MODE, in questo menu qui a sinistra dobbiamo andare sulle impostazioni macchina. Nel momento in cui già evidenzio impostazioni macchina, qui sulla parte destra mi mostra il contenuto, quindi la cinematica, i limiti di traslazioni, eccetera. Oppure appunto anche premendo sul tasto più che c'è accanto a impostazioni macchina trovo gli stessi argomenti, gli stessi menu. A noi quello che occorre appunto è la cinematica. Cinematica dove appunto vediamo che io adesso ho una cinematica attiva X, Y e Z. E attenzione ci sono sempre due canali presenti e attivi sul controllo e anche sul simulatore. Questo perché permette, qualora si avessero più cinematiche caricate sulla propria macchina, può capitare di dover lavorare, quindi di avere in esecuzione una data cinematica attiva per il lavoro che si sta eseguendo, ma magari si ha la necessità di simulare un altro programma, un altro programma che prevede una cinematica differente con assi differenti, e quindi i due canali sono apposta separati, in modo che uno possa avere un canale cinematico, diciamo una cinematica attiva per quanto riguarda l'esecuzione, quindi come si sta muovendo la macchina in quel momento, e posso impostare invece con il canale sim una simulazione, quindi nella prova programma, con una configurazione assi differenti. Quindi appunto impostazione macchina, cinematica, e abbiamo i due canali. Aprendo il menu troviamo, questo qui io l'ho, diciamo, volutamente asciugata un po', ma in realtà a seconda dei simulatori che scaricate trovate più o meno possibilità di modificare le cinematiche. Ok, per esempio io potrei indicarmi che voglio una configurazione con una tavola AC. La modifico in entrambi i canali, sia nell'esecuzione che per quanto riguarda la simulazione, confermo, quindi il controllo caricherà la nuova cinematica, gli do ok, ed ecco che mi ha modificato la cinematica, sia per quanto riguarda la grafica ovviamente, che anche nella definizione, che anche nella definizione degli assi disponibili. Quindi rivediamolo, dal tasto mode, su impostazioni macchina, andando nel menu cinematica, e qui correndo nel menu DC table, selezionando, quindi se occorre la stessa, ma direi che sul simulatore farà così, ci si muoverà sempre un po' con parti stagni, diverso può essere in esecuzione sulla macchina vera e propria, se appunto avete a disposizione più cinematica. Confermo, do l'ok, ed ecco che ho un'altra cinematica attiva, questa volta con la tavola con gli assi B e C. Ok? Niente, questo qui era proprio la pillolina del giorno, non ho nient'altro da aggiungere, se no di seguite il canale e iscrivetevi, in modo da non perdervi i prossimi video che pubblicherò. E niente, vi voglio bene, buon lavoro, e ciao ciao, alla prossima, ciao!